Tentato incendio doloso ieri sera ai danni dell'auto, il coordinatore generale di Cogges S.P.A. Stefano Margani era in casa con la sua famiglia quando intorno alle 23 circa un innesco è stato lanciato all'interno della recensione della villa di proprietà a Introdacqua. Il fatto che l'ingegnere e la moglie fossero ancora svegli è evitato il peggio. Mia moglie mi ha subito chiamato dicendomi di aver visto dalla finestra delle fiamme, racconta Margani. Sono subito corso fuori con dei secchi d'acqua provata a spegnere le fiamme che si stavano propagando sull'auto. Nel frattempo lei aveva avvertito vigili del fuoco e carabinieri. Il ruolo fortunatamente è stato spento in pochi minuti, l'auto riportò dei danni solo a un pneumatico. Resta però lo sconforto su un episodio di cui non si riesce a comprendere la motivazione. Io non ho mai ricevuto minacce avvisali di nessun genere, aggiunge Margani. Per questo resto è scioccato di fronte a un episodio che è stato messo in atto non in piena notte, ma mentre stavamo facendo addormentare i bambini con le luci di casa accese e dunque ben visibili dall'esterno. Non riesco davvero a spiegarmi una cosa del genere e non nego che ci sia una certa preoccupazione. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Sulmona che non ricordano episodi simili almeno di recente, Introdacqua. Vista la gravità del gesto, l'amministratore unico di Coggesa, SPA Vincenzo Margiotta, esprime solidarietà e vicinanza al coordinatore generale e alla sua famiglia. Siamo molto vicini a Stefano in questo momento e sui cari, interviene. Una cosa del genere ci lascia abbasiti, ma non inermi. Per questo la condanna dell'episodio deve essere forte e chiara. Vicinanza e condanna sono due effetti della stessa medaglia, in questo caso, che mi sento di esprimere a nome di tutta la famiglia Coggesa per conto di tutti i dipendenti, nessuno escluso. Ma la solidarietà arriva anche dal vice sindaco di Sulmona, Nicola Angelucci. È un gesto da condannare quello che ha colpito questa notte il dirigente Coggesa, Stefano Margani, finitore in mirino di un tentativo di incendio. La solidarietà a tutta la famiglia è un atto obbligatorio e dovuto alla parte delle istituzioni, ma anche affettuoso, che impone una riflessione nei confronti di una comunità esposta in questi ultimi tempi a episodi di odio e violenza a Chiosa Angelucci. Poco più di due mesi fa, il 24 novembre scorso, cinque mezzi Coggesa erano stati dati alle fiamme in un deposito aziendale, tre dei quali distrutti completamente. Difficile non pensare a un collegamento tra i due episodi, anche se sono ancora in corso le indagini.